Grazie, intanto un saluto a tutti voi, un saluto alle utilità civili e militari, a tutti i presenti, a tutti voi che con passione seguite le attività ambientali. Devo dirti Presidente, un ringraziamento anche a te, perché è veramente un ringraziamento all'ISPRA per tenere così attento una platea così ampia. Ogni volta che siamo in questa sala non si fanno mai pause e caffè, ho visto, c'è mai un destino... Io sono molto teutonico in questo. Bene, allora vi andrò a presentare quello che è il modello di gestione dei rifiuti urbani in Veneto con una piccola premessa. Devo dire che i risultati che sono ottenuti sono principalmente ottenuti grazie agli impegni ambiziosi delle amministrazioni locali in Veneto, alla collaborazione importantissima dei cittadini e non ultima agli interventi normativi della pubblica amministrazione della Regione Veneto con, ad esempio, gli incentivi economici per la riduzione del deposto a discarica. La prima slide descrive quelli che sono gli enti di gestione del Veneto. Sono 33 aziende di gestione. Prevalentamente sono aziende pubbliche con medie dimensioni, 200-500 mila abitanti, con caratteristiche di avere i bilanci non in perdita e di essere ai primi posti di quelle che sono le classifiche di aziende pubbliche più performanti. Un'altra caratteristica della maggior parte di queste aziende è che la maggioranza di esse gestiscono tutte le fasi del ciclo dei rifiuti, dalla gestione impiantistica ai servizi vari, alla riscossione tarifaria. Questo è un tema molto importante, uno dei fondamenti della buona riuscita della raccolta in Veneto, quindi è la raccolta seco e umido. Qui, come vedete, siamo arrivati al 98,7%. È un dato fondamentale, fortissimo, che è dovuto alla diffusissima raccolta domiciliare, sia normale che spinta. Ricordo che è l'82% dei comuni del Veneto, quindi 470 su 581, che hanno la raccolta porta a porta. Il resto sono sistemi stradali o misti con caratteristiche sempre di particolare attenzione. I vantaggi della raccolta, di questa raccolta, sono quattro principalmente. Ovviamente le percentuali più elevate, la produzione ridotta di rifiuti, la migliore qualità dei materiali raccolti da raccolta riferenziata, che poi andranno a una seconda vita, e poi, non da ultimo, non meno importante, la possibilità di perequazione di servizio, ovvero di applicazione di quelli che sono i sistemi tarifari commisurati ai rifiuti prodotti da ogni utenza. Per quanto riguarda la raccolta secco umido, abbiamo 662.000 tonnellate di organico raccolto, 134 kg per abitante, e anche qui abbiamo una rete di impianti in Veneto con potenzialità di quasi un milione di tonnellate. Sono 20 gli impianti di grandi dimensioni che possono ricevere dalle 20.000 alle 300.000 tonnellate di rifiuto, 50 impianti di dimensioni piccole, diciamo, per il compostaggio, o anche del suolo verde, e comunque è fondamentale anche l'uolo dell'Agenzia di ARPA, per quanto il monitoraggio periodico per il compost. Questo è un altro slide molto importante, il tema dei centri di raccolta. Come vedete da questa immagine, tutta praticamente gialla, c'è una percentuale altissima, cioè il 97% della popolazione in Veneto può usufruire di un centro di raccolta, o perché c'è dal proprio comune uno o più di uno, o perché è convenzionato con i comuni attivi. Il tema è importante perché non sembrerebbe, ma il 18% delle raccolte differenziate a noi arriva da questi centri di raccolta. Quindi è un'opportunità, una rete veramente molto importante. Sul tema del regime tarifario, fin dal 2013, fino al 2013, 291 comuni in tariffa, di cui 130 in tariffa puntuale. Una piccola aneddoto, già in Veneto, già dal primo anno 2000 era applicata la tariffa, c'era già il passaggio tra tassa e tariffa, e una città, la città baricente che è al Veneto, Padova, dove ha sede anche la direzione generale nella nostra agenzia, passò al sistema tariffario già nell'anno 2002, fra le primissime città d'Italia, soprattutto una città di 200.000 abitanti. Dal 2013 siamo in tares, di cui 130 commisurati alla produzione con sistemi di misurazione puntuale, quindi un tares corrispettivo. Ricupero di materia. Qui in Veneto esiste un consolidato sistema di impianti per la recupera di materia, alimentato appunto dalle raccolte differenziate, che come avete visto sono importanti. Si tratta di 70 impiaggi di compostaggio, 10 gestori anaerobici, 200 piattaforme per la selezione, 10 impianti di selezione dei RAE, 25 impianti di recupero ingombranti e 6 impianti di recupero spazzamento. E qui dopo aprirò un piccolissimo appunto. Per quanto riguarda il quadro impiantistico regionale, aspetta che forse ho saltato una slide, no, non l'ho portata, ma ve lo dico ugualmente. Per quanto riguarda gli impianti, qua devo leggere perché non ricordo il dato, per quanto riguarda gli impianti, tra recupero di materia, tra recupero di energia, trattamento, incenerimento, discariche di rifiuti inerti, discariche per rifiuti pericolosi o non pericolosi, stoccaggi, con tutti i vari regimi autorizzatori, quindi aia produttiva, semplificato, ordinario, semplificato, tutto quello che volete mettere, in tutte le province del Veneto, dal piccolino, parlo di veramente piccoli, sono molti piccoli, al più grande, è un numero veramente importante perché arriviamo a 1.500. Queste sono alcune iniziative di prevenzione, il compostaggio domestico ve ne parlerò fra un secondo, sono varie attività, dal risparmio della carta dell'ufficio, al tema dei pannolini lavabili, a recupero di eccedenza alimentare, ecofeste, centri di uso, alla spinta importante per l'utilizzo dell'acqua, del cosiddetto l'acqua del sindaco. Il tema del compostaggio domestico è nato, si è sviluppato negli anni 2000 con il tema della tariffa, perché bene o male anche lì c'era uno sgravio per quanto riguarda determinate famiglie che potevano usufruirne. Attualmente l'86% dei comuni è prevista la pratica del compostaggio domestico. Anche qui fondamentale è l'attività dell'osservatorio regionale del compostaggio per tutto il supporto all'amministrazione dei cittadini. Cosa vuol dire? 110.000 tonnellate di frutto organico non prodotto, che non passa su gomma, non circola a Veneto e che esce da quello che con le buone pratiche dei cittadini non risulta non prodotto. fondamentale è la qualità costante nel tempo e capillare di tutte quelle che sono le attività di comunicazione e informazione. Nel 2005 la media corrispondeva a 0,82 euro abitante, che è un po' cresciuta fino al 2013 con un euro di spesa per abitante, ma sono soldi ben spesi perché comunicare e formare vari titoli con giornalini, calendari, con le scuole, tantissime attività sulle scuole da ogni livello è fondamentale per poter tenere alta l'attenzione di tutti i cittadini a tutti i livelli e per continuare a correre in questa direzione. I risultati, abbiamo 449, lì ho visto un errore, non sono 2.213.000, ma sono 2 milioni di tonnellate, quindi abbiamo una produzione di rifiuti urbani discesa dall'anno scorso di una piccola parte, lo 0,04%, abbiamo 449 kg abitante, 63,6%, siamo ormai prossimi al 64% raccolta differenziati, principalmente i rifiuti vengono avviati a recupero di materia, c'è una potenzialità di recupero organico importante e residuale è ormai il conferimento di scarica. Produzione pro capite, 449 kg abitante, qui se una piccola curiosità, l'anno scorso ne avevamo 447, siamo cresciuti di 2 kg abitante per un motivo molto semplice, abbiamo parlato di meteorologia, la stagione piovosa e la maggior parte di sfalci che è stata prodotta ha creato un aumento di verde e quindi la meteorologia ha influito 2 kg abitante per quanto riguarda questa parte. Comunque vedete da quelli che sono i dati Nord Italia e Italia stessa, il Veneto sta andando abbastanza in bene. Questo è il tema della raccolta differenziata, l'anno scorso mi trovavo sempre invitato a parlare di questo tema, siamo cresciuti ancora dell'1,1%, c'è un obiettivo ancora sfidante perché il nuovo piano regionale, la provazione del piano, puntiamo al 70%, per cui anche in questo caso c'è una scelta proprio forte per cercare di continuare a crescere. Questo è appunto il quadro di quello che è un pochino la mappa della raccolta differenziata in Veneto, come diceva anche il Presidente Relacci nella zona di Treviso e probabilmente non ricordava il nome, ma Zenson di Piave siamo quasi all'86% di raccolta differenziata e comunque c'è una percentuale veramente altissima di comuni con percentuali che hanno superato il 65% e il 70% in tutto il Veneto. Considerando prima quello che ci ha raccontato il Direttore Laporta, con il 42,3% italiano e il 54% del nord, il 64% del Veneto è sicuramente un risultato importantissimo. La composizione della raccolta differenziata, come vedete abbiamo un 134 kg abitanti, quindi importantissima la raccolta dell'organico, carta siamo un pochino meno perché non la consumiamo, vetro, plastica. Cosa resta del residuo? Qui anche un altro tema molto importante perché quando vi parlavo del fatto di poter andare a mirare anche un 70%, si tratta che tutte le analisi merceologiche effettuate dal nostro osservatorio hanno evidenziato e hanno dato riscontro che ci sono presenze di ancora frazioni recuperabili. Una fra tante, ad esempio, sono il terraspazzamento strade che hanno aperto una nuova via e qui abbiamo quelle che sono appunto nella torta, troviamo un 13% ancora di organico, una parte di carta e cartone, plastica, mentali e quant'altro. Quindi il 70% a 2020 è un obiettivo che vogliamo assolutamente superare. gestione dei rifiuti raccolti. Allora, circa il 60% è sottoposta al recupero di materia. Negli ultimi anni abbiamo avuto, come dicevo, abbiamo avuto anche tutte quelle che erano frazioni che storicamente venivano avviate a smaltimento, abbiamo cambiato strada, come ad esempio lo spazzamento e gli ingombranti e si sta sviluppando sempre di più il recupero anche di queste frazioni. È stato avviato 350.000 tonnellate avviate agli impianti di trattamento meccanico-biologico, con una produzione anche di 138.000 tonnellate di CDR-CSS, che il 42% di questo in Veneto è utilizzato presso un impianto, una stazione termoelettrica in provincia di Venezia. 214.000 tonnellate avviate alla termoelizzazione, nel 2013 avevamo tre impianti, nel 2014 un termoelizzatore in Veneto per scelta tecnico-politica è stato chiuso per incrementare ulteriormente la raccolta riferenziale del territorio veneziano, per cui l'anno prossimo ovviamente questi dati cambieranno. E solo 100.000 tonnellate sono destinate a discarica, ricordando che hanno un contenuto organico inferiore al 15%. Questo è un po' uno schema nella gestione degli anni, in rose è evidenziato quello che vi dicevo prima, lo spazzamento e gli ingombranti, che anche qui abbiamo, si tratta di andare di cesello per cercare di trovare ogni possibile opportunità per andare a incrementare i recuperi e diminuire la discarica. Questa è una delle slide che vi vede la gestione del rifiuto urbano, quindi con sette impianti di trattamento avviati a produrre CSS, 138.000 tonnellate o biostabilizzato, 215 tonnellate vanno nei tre termoelizzatori, che come ho detto diventeranno due, sono due da quest'anno, Padova e Schio, in provincia di Vicenza, e 110.000 tonnellate solamente nelle 12 discariche, dove ovviamente anche qui si produce del biogas da parte del biogas. Il costo, quanto costa questo sistema di gestione? Siamo a 138 euro a tonnellata, abitante, scusate, prima parliamo di 158 con il dato aggiornato, quindi questo è un calcolo medio fatto su 511 comuni presi sui 581 e c'è stato un incremento del 5% rispetto al 2012, che come ho scritto potrebbe essere, dovrebbe essere in parte dalla prevenire dalla gestione come tributo, invece da corrispettivo, ha comportato appunto l'inserimento anche dell'IVA tra i costi, e in parte alla maggiorazione dei sistemi indivisibili introdotta dalla legge 214. Ecco, questo è un pochino il modello Veneto, quindi per concludere abbiamo un'elevata percentuale raccolta differenziata e una produzione di rifiuto secco di 164 kg abitante. Questi risultati, per darvi una sintesi, sono dibuti alla capillare raccolta secco-mumido, che è vicino al 99%, è un dato, direi, come diceva, europeo, penso assolutamente, la diffusione della raccolta domiciliare che è al 68, i centri di raccolta, come vi ho fatto vedere prima la mappa, apportano il 18% di percentuale, è una fetta molto importante perché riesce per arrivare a questi risultati, gli impianti del recupero, la continua informazione che è appunto capillare di qualità costante del tempo a tutti i livelli, e questo è fondamentale, e poi anche il compost domestico con la sua fettina, le 110.000 tonnellate di rifiuto non prodotto, direi che è importante. Da non ultimo, direi che gli interventi normativi e gli incentivi economici per, come dicevo all'inizio, per la riduzione di rifiuti di scarica, sono sicuramente fondamentali. Io ringrazio per l'attenzione, ho avuto, spero che in questa occasione magari possa essere riferito al Presidente Realacci, che anche noi del Veneto, come i colleghi presenti, siamo qui in trepidante attesa di questa nuova legge, questo nuovo tagliando che arriverà a modificare, a dare questa nuova vita, questa omogenizzazione delle attività italiane, sperando che delle agenzie si possa, con un catalogo di servizi unico, omogenizzarsi al massimo, e come dicevamo prima, anziché essere cugini, diventare fratelli o sorelle, o magari fratelli o sorelle gemelli, per lavorare tutti quanti insieme al meglio. Grazie e buona giornata. Grazie Emanuele. Bene, adesso passiamo dal nord al sud, chiamo Claudio Marra dell'ARPA Campania, è abbastanza chiaro che così come noi non facciamo inchini, rappresentiamo i successi e le difficoltà allo stesso modo, con grande trasparenza e credo che sia questo un elemento importante anche per il dibattito. Quindi questa Italia che si rappresenta anche con delle eccellenze, e delle eccellenze nelle difficoltà, io credo che questo sia nell'ordinarietà e nelle difficoltà, questo sarebbe un elemento estremamente positivo da...